Voglio parlarvi di qualcosa che mi sta molto a cuore, il telefono amico. Telefono amico gay e lesbico è un'associazione nata a Bologna più di 30 anni fa con lo scopo di offrire una presenza amichevole a chi ne sente il bisogno. È un servizio telefonico ma anche vis-à-vis che, per chi si sente solo ad esempio, può essere di grande conforto. Sembra semplice, pure il fatto di alzare la cornetta e chiamare può significare ammettere di avere un problema, ammettere qualcosa che ci fa soffrire. Quello che vorrei dirvi è che conviene provarci perché dall'altra parte del filo c'è una persona che, come noi, magari ha dovuto lottare per piacere a se stessa, si è dovuta porre delle domande. Sicuramente qualcuno con delle competenze psicologiche è abituato all'ascolto. Poi può essere utile chiamare anche se non si è in un momento di particolare sofferenza, afflitti da una situazione grave, ma semplicemente si ha voglia, bisogno di condividere la propria esperienza. Come ho detto, conviene provarci anche solo per capire che non siamo soli. Ecco, il telefono amico vuole essere questo, una mano tesa. Telefono amico gay e lesbico. Sentiti libero. Di chiamare.